salve amici del canale facciamo un disegno abbastanza semplice così giusto per non perdere la mano e soprattutto soprattutto per riposarsi un attimo perché da stamattina che sto facendo un sacco di cosette una dietro l'altra e ora sono anche veramente abbastanza stancato come diceva uno sono un po stanchino non so se vi ricordate il film cos'era forrest gump se non mi sbaglio vabbè comunque come vedete ho un cartoncino leggero di carta canzone da 220 grammi metro quadro e ci facciamo un disegnotto abbastanza veloce giusto per passare come detto un po di tempo e soprattutto perché ogni tanto mi arrivano dei disegni da parte di qualche utente diciamo così perché adesso questo periodo come sapete un po di tempo è avanzato fortunatamente le cose si stanno sbloccando era l'ora per cui ogni tanto come dicevo arriva qualche disegno e peccano un po di prospettiva un po di ombre un po di qualche cosa di composizione eccetera eccetera come vedete il foglio è abbastanza piccolo per cui se volete le misure ve li do sono 20 pepe pepe grosso modo saranno 20 per 25 giusto per avere un'idea allora cosa facciamo organizziamo il disegno in prospettiva una prospettiva abbastanza normale con un solo punto di fuga siccome farlo qui creerebbe delle difficoltà facciamolo fuori fuori dal nostro disegno per comodità ve lo faccio vedere lo mettiamo qui così diciamo che usiamo questo punto come punto di fuga per fare le nostre facciamo una griglia di linee che ci possono appunto aiutare usiamo una matita abbastanza dura però senza premere troppo quindi facciamo una griglia di di linee senza un perché una griglia che poi ci serviranno per fare qualche cosa di più completo questa è una cosa che abbiamo già evidenziato tempo fa l'avevo già presentato diciamo un tutorial simile per cui se volete vedere qualche cosa qualche altra cosa potete tranquillamente andarla a cercare e lo trovate senza difficoltà non mi ricordo il il titolo che detti a questa questo tutorial però lo trovate senza grandi difficoltà ora come vedete questo è un foglio appoggiato su un altro foglio per evitare che si possa spostare è probabile allora fate così prendete una linea a caso e la segnate diciamo che questa linea qui ok questa linea è quella che vi darà la diciamo il punto di partenza ok quindi questa linea qui sarà quindi anche se lo spostate diceva come si fa allora lo prendete lo rimettete in linea e siete a posto quindi sapete che era era così e vi ritrovate nella stessa posizione di prima se dovete tracciare la linea ma insomma è giusto per avere una possibilità in più come detto facciamo una un portoncino di una casa di montagna in pietra quindi niente di straordinaria una cosa abbastanza normale anche se volete abbastanza banalotta però ci serve proprio per capire alcuni elementi allora le linee quelle verticale e quelli orizzontali comunque siano orientati nei punti di fuga sono sempre dritti quindi orizzontali e verticali allora facciamo questa ok diciamo che questo qui è uno stipite e quest'altro un altro quindi diamo una larghezza x che vogliamo la nostra porta e siamo a posto che questo è il nostro portone quindi se vogliamo addirittura ci possiamo fare anche una finestra facciamo c'è anche una finestrina quindi se questo il pavimento diciamo se il livello strada io adesso non sto marcando molto per cui sforzatevi un po di a vedere quello che sto facendo perché se se marcarsi troppo poi dopo per togliere queste linee sarebbe un po problematico allora adesso giusto per avere una delle linee ecco abbiamo fatto come vedete queste sono le nostre linee di costruzione ok allora in questi queste linee ci dobbiamo inserire i nostri elementi qui abbiamo detto un portone e questa è una finestra quindi la finestra sarà da qui a qui e portone ecco allora linee orizzontali come detto sono orizzontali quindi siamo facilitati in questa cosa ora questo è lo spessore questo sarà lo spessore del nostro muro andiamo su naturalmente possiamo anche utilizzare non la riga ma semplicemente la nostra matita la nostra abilità di disegnatori però consideriamo che siamo così diciamo alle prime armi stiamo stiamo cercando di fare qualche cosa di allora tiriamo su le nostre linee orizzontali che sarebbero poi i muri le pietre angolari per fare il nostro ok bene qui come vedete anche se le linee non tornano diciamo come erano state fatte con la nostra griglia però comunque abbiamo questa di sotto e quella di sopra che ci possono aiutare quindi anche se non sono proprio perfettamente allineati prospetticamente ci interessa fino a un certo punto non dobbiamo fare la costruzione reale ma realistica e anche divertente quindi ora come detto qui abbiamo la nostra linea di che si è spostato lo rimettiamo come vedete è abbastanza semplice ora facciamo il nostro ok così ok e questa qui sarà la nostra soglia nostra soglia che la possiamo fare più piccola più grande comunque giusto per avere dei punti di riferimento perché noi lavoriamo sempre per punti di riferimento ok a questo adesso abbiamo praticamente tutto quello che ci serve quindi possiamo fare la costruzione vera e propria il disegno ok allora abbiamo detto che facciamo il nostro nostre pietre nostre pietre come detto non li fate con righello ma tracciatele a matita anzi facciamo una cosa per farvi vedere così non la storia di passare di dieci volte prendo una una matita un pochino più grassa questa è una 33 b quindi abbastanza rumorosa diciamo si dice abbastanza come vedete grassa e lascia un segno evidente non è proprio il massimo perché troppo impegnativa in quanto lascia appunto un segno che poi è difficilmente cancellabile in questa questa prima stesura caso mai sarebbe meglio averci una matita meno così meno grassa appunto allora come detto queste sono pietre pietre tagliate con lo scalpello ammartellata ammartellata ammazzolate come dirige quindi non devono essere precise fatte con il nostro righello quindi diamogli una parvenza di di roccia di pietra lavata levigata eccetera eccetera quindi consideriamo che la luce venga da questa parte ok questa è importante decidere la luce da che parte viene perché sarà quella che la luce e le ombre daranno plasticità al nostro dipinto al nostro disegno qualsiasi cosa facciate come detto tantissime volte saranno proprio le luci e le ombre che caratterizzano il nostro nostro lavoro quindi fateci una attenzione particolare a questi elementi ora non andiamo a definire ancora le ombre perché lo faremo in seguito qui abbiamo il nostro nostro pietre possiamo anche fare abbastanza disuguali e possiamo anche sbeccarli un po se ci piace perché insomma effettivamente potrebbero essere anche fuori sagoma diciamo così quindi ne possiamo essere sto un po empatizzando queste cose come vedete però è giusto per dare l'idea di come si possano fare delle pietre che hanno una loro caratteristica ora naturalmente stiamo facendo una cosa molto rapida evidenziare soltanto alcuni elementi avendoci più tempo pazienza si possono fare delle cose molto più particolari definite eccetera eccetera quindi per il momento ci va bene questo tipo di di interpretazione ok quindi ci vogliamo fare anche qualche che so un po di po di erba no per avere una caratteristica più terreno ok qui poi ci possiamo fare ecco ad esempio la soglia la possiamo fare che viene un pochino più esterna rispetto al muro quindi non c'è bisogno di prendere per forza la nostra il nostro righello ci può bastare la matita e una riga a occhio ok ora facciamo anche il portone allora facciamo un portone portonaccio classico potete tenere sulla linea come volete con la matita mano libera o se no prendete il vostro il vostro righello anche qui potete decidere come fare questo portone a due ante a quattro ante ci diciamo assi orizzontali verticale adesso per semplificare facciamo delle assi verticali ok andiamo su poi casomai ci facciamo anche una una verandina una tettoia qualche cosa in modo che ora facciamo anche ecco un chiavistello così abbiamo anche la chiusura ma poi lo rifiniamo meglio dopo da di questi fatti un po a pistola ora fa un po di questa punto prendiamo questa matita questo troppo diamo a 2b 2h ecco una 2b è troppo troppo sprecisa una cos'era 3b questa 3b troppo grossolana per fare particolari un po più minuti tipo questo qui se non ci troviamo a fare un tratto troppo 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 così insomma sgraziato ok allora e quando fate qualche cosa del genere immedesimatevi un po nella nella struttura che state elaborando quindi pensate che sono sassi quindi hanno delle forme non proprio regolari e quindi lavorate un po di fantasia un po di così di immaginazione cercate nella vostra memoria qualche cosa che possa ricordare come era appunto un portone non deve essere per forza di montagna insomma qualche cosa di antico di vecchio avete sicuramente visto nella vostra vita e quindi cercate di riportarlo ecco 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 disegni e quadri sono fatti proprio di di ricordi di immaginazione ecco allora facciamo anche una facciamo un pochino più alta dai eccosi allora facciamo anche l'architrave allora come vedete queste sono le linee di fuga no allora facciamo un'altra linea di fuga da qui diciamo è che va verso il nostro punto quindi sarà questa qui, da qui scendiamo e andiamo ora abbiamo questa linea qui e questa linea qui che è l'esterno per posizionare questa pergola, questa trittoria, la portiamo su questa linea poi diamo lo spessore che vogliamo decidiamo se è fatto di una lastra di pietra invece legno quello che volete come detto parti di qui ok l'esterno l'esterno e quindi era qui e noi andiamo a riprendere questo pezzo qui ok abbastanza semplice no perché se lo fate diversamente vi sembra strano troppo grosso ma allora cosa succede che vi trovate fuori allineamento e non torna più quindi poi se vi piace farlo più piccolo perché avete un'esigenza diversa fatelo come vi fate però se volete una costruzione più o meno esatta ecco tenete di conto queste piccole cose e qui abbiamo lo stesso il muro e le stesse pietre che abbiamo anche di qua allora facciamo che parte di qui ok scende come detto prima i verticali e gli orizzontali sono uguali qui abbiamo già le linee di fuga scendiamo facciamo un altro sasso abbastanza ecco non c'è bisogno che segua proprio la la linea del righello possiamo tranquillamente fare in maniera diversa anche più piccola più grande queste linee prendetele soltanto come riferimento non sono delle linee da seguire in maniera così assoluta quindi e qui ne facciamo un'altra possiamo farla più piccola come come siamo come ci piace ecco non è vincolante in nessun caso qui se vogliamo fare un po di spessore ecco qui abbiamo le nostre pietre poi eventualmente se ci volessimo fare anche il tonaco che si è rotto nel tempo ci possiamo allargare come ci piace facciamo anche un'altra cosa per renderlo abbastanza allora qui rimettiamolo in posizione grossomodo è così come se tornano tutte le linee l'architrave quindi da qui andiamo alla nostra ecco la nostra linea ecco qui abbiamo anche il nostro architrave grossomodo grossomodo un altro bel pietrone ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Alcune cose può fare un tratteggio abbastanza singolare e può essere pure abbastanza buono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.